Ministro, vuole dire qualcos'altro perché io non leverei mai la parola. No, io voglio dire di leggere, che è una cosa fondamentale, molto bella, che ti arricchisce, che ti fa vivere dei momenti esistenziali. Ho ascoltato le storie che sono, come dire, espresse in questi libri che sono finalisti questa sera. Sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Ecco, proverò a leggerli. Proverò a leggerli. Proverò a leggerli. Ah, non li ha letti? Sì, li ho letti perché ho votato, però voglio, come dire, approfondire questi volumi. Cioè, oltre alla copertina, dentro. Comunque, guardi, un bel applauso al nostro Ministro, Gennaro San Giuliano, al Maestro Mazza, a suo fianco. Grazie, grazie, buonasera a tutti.